Aveva rubato una borsa in un bar, sfilandola dalla spalliera della sedia, mentre la proprietaria stava prendendo un caffè e si era dato alla fuga, ma adesso è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. È successo nel centro storico Aretino ieri pomeriggio. In manette è finito un 31enne romeno con numerosi precedenti. Ad accorgersi di quanto accaduto e allertare le forze dell'ordine, il proprietario del locale, che si è anche lanciato all'inseguimento del ladro, ma senza successo. Una volta arrivati sul posto, gli agenti della squadra volanti hanno raccolto le prime testimonianze e grazie all'acquisizione delle immagini registrate da due telecamere di videosorveglianza della zona è stato riconosciuto l'autore del furto, già noto alle forze dell'ordine, per precedenti analoghi. Il 31enne è stato così bloccato dalla polferne pressi della stazione di Arezzo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato ancora in possesso del borsello della donna mentre la borsa con la restante refurtiva è stata recuperata in un cestino della stazione. Il tutto è stato restituito alla legittima proprietaria.